Preside ma anche operatore della politica, comunicare è diventato davvero importante? Sì, infatti oggi ospitiamo Francesco Pira, un sociologo, un ricercatore universitario qui a Licati, di questo gli sono grato perché Francesco ha sempre accolto il nostro invito e specificatamente Francesco ha scritto da poco, diciamo a gennaio un libro, è la net comunicazione, quindi come i cittadini, come gli elettori, come la politica, qual è l'uso che la politica fa di questi social network, quindi della nuova comunicazione. Lei ha detto comunicare, comunicare è estremamente importante, io capisco che però la classe politica italiana, che è una classe politica datata anche nell'età, ha difficoltà a muoversi e quindi nonostante i dati che risultano dalla ricerca di Francesco Pira, cioè che circa il 60% tra deputati e senatori ma anche sindaci fanno uso di questi sistemi e però capiamo perfettamente che dietro realmente non c'è il deputato, non c'è il senatore, non c'è il sindaco ma dietro poi c'è un esperto che ha il compito di curare questo. Francesco Pira, i politici sono caduti in rete, quanto internet può rivelarsi uno strumento per comunicare la politica insomma? Ma diciamo caduti no, nel senso non sono ancora organizzati per stare in rete, perché la rete pone delle questioni che sono completamente nuove rispetto al passato. Quello che io nel libro evidenzi in maniera molto chiara è che non c'è più una comunicazione molto televisiva e quindi una comunicazione da uno a molti, ma c'è una comunicazione da molti a molti. E' una nuova cultura che sviluppa due elementi principali che io nel libro tratto. Uno è la cultura partecipativa e quindi qualcosa che si muove dal basso e che permette di dialogare con i cittadini. E l'altro aspetto è quello invece dell'autocomunicazione di massa, cioè il fatto che noi cittadini possiamo argomentare quello che facciamo, produrre noi stessi, mettere dei video e voi giornalisti potete tranquillamente trarne spunto. Quindi la politica o si adatta a questo nuovo sistema oppure è fuori da questo nuovo mercato dell'informazione. Una classe politica datata è un handicap in più? Una classe politica datata non è un handicap in più se la classe politica si adegua. Se la classe politica non capisce che nella nuova line di lavoro c'è anche questo tipo di attività, userà Facebook come lo sta usando, come lo usano molti parlamentari che scrivono tutto quello che fanno, motivano le loro presenze televisive in Parlamento ma non dialogano affatto con i cittadini. Io consiglio a tutti i politici italiani, anche a quelli nostrani e siciliani di guardare molto cosa sta facendo Obama, è un buon maestro.